Grazie a tutti Grazie, grazie e buon pomeriggio Allora Presidente, qualche giorno fa a Teramo è stato presentato questo importante progetto comunque stiamo parlando di teatro dialettale, un movimento che sta creando sempre di più movimento Sì, diciamo che il teatro dialettale in particolar modo, quindi parliamo anche di teatro amatoriale è stato molto resiliente quindi dal periodo pandemico ad oggi abbiamo avuto una flessione subito dopo la pandemia però diciamo che negli ultimi due anni stiamo riprendendo un po' il territorio stiamo riprendendo le nostre attività e sta riprendendo anche un folto numero di pubblico quindi il pubblico molto numeroso, molto contento delle aspettative che può dare questo tipo di attività Questa rassegna, parliamo di Teramo, si chiama Vernacolando tra poesie e teatro Sì, siamo giunti ormai al terzo anno, diciamo che c'è stata una prima infarinatura al teatro comunale prima della pandemia in collaborazione con la Fita Abruzzo e la Fita Teramo di cui sono il presidente, quindi rappresento tutte le compagnie iscritte alla Fita Teramo C'è stato questo primo approccio al teatro e abbiamo riscontrato un notevole successo di pubblico perché abbiamo toccato punte anche di 600 spettatori per ogni spettacolo e quindi sembrava giusto di ripeterci anche dopo la pandemia e riprendere questa attività Oggi siamo arrivati alla terza edizione e abbiamo abbinato oltre al teatro amatoriale quindi anche la poesia Prima degli spettacoli verranno lette delle poesie verranno lette delle poesie e verranno anche recitate delle poesie dei testi in vernacolo, specialmente di autori che partecipano ai vari concorsi Il primo spettacolo in programma per il 24 di novembre? Il primo spettacolo in programma il 24 di novembre, sì, con i Maruccini di Chieti Questa manifestazione a trazione Fita, chiaramente quest'anno abbiamo voluto dare più risalto alle compagnie sul territorio della provincia di Teramo Però Chieti, perché una compagnia di Chieti? Perché i Maruccini quest'anno festeggiano il loro cinquantesimo anno di attività quindi è stato un onore averli qui a Teramo è stato un onore, siamo anche ad aprire la rassegna come a titolo di ringraziamento Che momento vive questa tipologia di spettacolo? Perché poi molte volte il teatro dialettale racconta un po' in maniera scherzosa anche la vita quotidiana delle persone È ancora così oppure si sta cambiando? Sta subendo una metaforfosi Le tematiche che vengono trattate oggi si staccano un po' da quello che erano l'ambiente rurale del dialetto perché noi abbiamo culturalmente questa convinzione che il dialetto si parli soltanto nelle campagne non nelle zone montane ma in realtà il dialetto si parli un po' dappertutto Anzi, si sta anche riscoprendo il dialetto Si sta anche riscoprendo l'unica cosa è che lo parliamo male ormai le nuove generazioni non lo parlano neanche più, tra l'altro Quindi bisogna riscoprire anche quei termini, quei vocaboli quei modi di dire, quei modi di fare dei nostri nonni e dei nostri bisnonni Quindi sono tradizioni che devono portare avanti e non le possiamo dimenticare E questo è molto importante Le nuove generazioni come stanno rispondendo però in questo contesto? Purtroppo devo dire che le nuove generazioni non stanno proprio rispondendo perché non c'è stata un'ulteriore domanda nei loro confronti Quindi bisogna entrare nelle scuole, bisogna farlo conoscere nel teatro in generale perché adesso noi stiamo facendo una campagna abbonamenti per queste due rassegne e stiamo notando che la fascia di età è superiore ai 65 anni quindi abbiamo un pubblico piuttosto maturo e piuttosto adulto E state portando avanti delle iniziative Lei diceva giustamente che dentro le scuole bisogna far riscoprire questo modo A livello locale, a livello regionale questo tipo di discorso è ancora un po' chiuso però come FITA, come Federazione e chiaramente il teatro, che poi non è solo il teatro dialettale si parla del teatro amatoriale quindi a tutti i livelli si sta facendo molto per quanto riguarda le nuove generazioni c'è addirittura un erasmus del teatro amatoriale quindi giovani, molti concorsi anche molti allaboratori per quanto riguarda i ragazzi quindi diciamo che lo scopo principale è proprio quello di divulgare questa arte alle nuove generazioni Che poi potrebbe essere un'importante palestra per le nuove generazioni perché poi già andare in scena andare in scena anche parlando in dialetto però è raccontando raccontando un po' delle storie e così secondo me può essere molto importante perché adesso viviamo il contesto dei social e tutti vogliono essere messi davanti alla televisione davanti a una telecamera però poi non si rendono conto del lavoro che c'è dietro per crescere Certo, ma queste ci sono anche le scuole di teatro e i laboratori di teatro che fanno questo tipo di discorso certo loro li preparano diversamente questo è un teatro autodidatta Però è anche questo importante Sì, c'è il vantaggio che qui hai un palcoscenico hai un palcoscenico, hai un pubblico hai subito già l'impatto con il pubblico cosa che quando vai a scuola di teatro chiaramente sono cose che c'è una certa una certa esperienza devi fare un certo cammino e poi arrivare su un palcoscenico Io mi ricordo che il teatro dialettale del teatro amatoriale mi ha sempre appassionato moltissimo io sono di Montone Albomano mi piaceva molto scoprire questo contesto e lo vivevo anche molto con la questione del Carnevale Morto che era un momento particolare perché era il funerale di Carnevale lì veniva fatto poi tutto a braccio però molte volte era un mix tra teatro dialettale non so come definirlo è un momento un po' particolare assolutamente perché si vedeva la barra si vedeva il Carnevale che era dentro la barra e bisognava anche saper recitare perché anche questo in particolar modo per il Carnevale Morto che è una bellissima manifestazione tra l'altro ma lì molte volte dovevi improvvisare esatto perché non è che avevi un testo veniva studiato e poi recitato il Carnevale Morto è la recitazione e proprio improvvisazione quindi è ancora più difficile perché poi devi trasformare quello che è la tua persona in quel personaggio che tu stai per rappresentare Quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione dell'evento che lei sta portando a Teramo ma anche dell'evento che ci sarà poi ne parliamo più approfonditamente a Montoro e Alvomano Allora per noi è stato molto più difficile quest'anno anzi devo dire che questa manifestazione che si chiama Bernacolando tra un po' diventerà vagabondando perché noi abbiamo esatto perché c'è un problema serio qui una carenza di strutture per poter fare questo tipo di evento per poter fare questo tipo di manifestazioni perlomeno indoro certo quindi al coperto io da giornalista purtroppo mi sono ritrovato a dover raccontare molte volte le criticità che stanno vivendo purtroppo abbiamo questa emergenza nella nostra città e quindi abbiamo dovuto fare abbiamo dovuto fare molti sacrifici per poter trovare una struttura anzi devo ringraziare il sindaco Gian Guido D'Alberto con l'assessore Filipponi e il consigliere comunale Raiola Michele che ci ha dato una grossa mano e che hanno messo a disposizione addirittura la stessa struttura dove oggi si fa il consiglio quindi il parco della scienza quindi il parco della scienza quindi il parco della scienza capite che è una struttura che verrà sfruttata non nella totalità ma soltanto una parte perché una parte è occupata dagli stalli del consiglio comunale quindi anche qui sia il comune l'amministrazione hanno fatto un grande sforzo per poterci dare questa struttura però ecco l'università era l'unica alternativa però noi abbiamo avuto l'anno scorso questa esperienza all'università di Teramo al di là del fatto che logisticamente è un po' decentrata però per il nostro target di pubblico cominciava a diventare scomodo e anche oneroso raggiungere l'università anche perché poi ci obbligavano di fare gli spettacoli in tarda serata e quindi tutto rimaneva più difficile invece quest'anno con questa struttura con questa opzione che abbiamo avuto anche dall'amministrazione siamo riusciti a riportare gli spettacoli la domenica pomeriggio che è più accessibile al pubblico o più maturo e ci sarà un contesto totalmente diverso a Montorio il Vomano dove c'è il cineteatro Tonino Valeri che sarà ovviamente al centro del vostro progetto perché ci saranno tre date nel mese di dicembre del cartellone degli eventi organizzati dall'amministrazione comunale all'interno degli eventi di Gran Sasso Live inizieremo il 15 dicembre proprio con i Sestini con la mia compagnia quindi debuteremo a Montorio Montorio è un'ottima piazza diciamo per quanto riguarda è molto virtuosa per quanto riguarda il teatro amatoriale lo abbiamo visto con le stagioni estive quindi con gli spettacoli estivi all'aperto che il pubblico risponde tantissimo però indoor non l'abbiamo mai fatto e diciamo che è la prima volta che si fa una manifestazione di questo tipo e di questa importanza e rilevanza nel comune di Montorio il Vomano quale sarà lo spettacolo che ci sarà proprio il 15 dicembre a Montorio il Vomano ci può spoilerare usiamo questo termine il 15 dicembre inizieremo con Lupiacione una commedia scritta da me e diretta anche da me tratto una tematica molto profonda molto attuale quindi una tematica gender al di là di quello che potrebbe essere il titolo della commedia ma è una commedia molto profonda e quindi è stata anche difficile coniugare questa tematica così importante e farla diventare anche ironica perché ci sono delle volte che si piange si ride e quindi come la vita purtroppo purtroppo e per fortuna diciamo così questo è anche per chi volesse seguire gli spettacoli che voi state organizzando c'è un sito c'è qualcosa qualche riferimento che si può dare agli amici degli spettatori per quanto riguarda per quanto riguarda Bernacolando il sito di riferimento è quello dei Sestini e poi abbiamo questo questo numero di telefono a scopo informativo che è il 351-6263-792 quindi potendo telefonare qui si possono acquistare sia i biglietti oppure sulla piattaforma CiaoTicket per quanto riguarda invece la manifestazione che faremo a Montorio per la rassegna uscirà un cartellone a breve un cartellone informativo e quindi gli ingressi saranno gratuiti quindi tutti potranno partecipare ovviamente facciamo un invito a partecipare perché è anche un contesto che permette di promuovere il territorio o per promuovere il territorio ma promuoviamo anche il teatro dialettale questa nuova forma di spettacolo e invitiamo anche i giovani a partecipare soprattutto i giovani soprattutto i giovani più a partecipare ad essere anche invogliati alla recitazione Presidente il tempo a nostra disposizione è terminato io la ringrazio per essere stato qui per averci raccontato ma sicuramente ci ritroveremo per approfondire ancora di più il grande lavoro che le sta portando avanti grazie grazie dell'invito e buonasera a tutti e adesso amici guardiamo insieme la puntata dedicata all'Abruzzo Racconta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti